grande fratello garibaldi non torna nella casa ultimissime sulle condizioni grande fratello che fine ha fatto e soprattutto come sta giuseppe garibaldi qualche giorno fa a seguito di un secondo malore il vidello calabrese ha dovuto di nuovo lasciare la casa l'argomento è stato ovviamente trattato da alfonso signorini nel corso dell'ultima diretta quella dove tutti si aspettavano di rivederlo come era successo qualche settimana prima ma invece garibaldi non c'era e non ha raggiunto i suoi coinquilini lunedì scorso il conduttore del reality ha fatto sapere al pubblico che garibaldi sta bene e che i medici stanno monitorando la sua situazione senza però dare una data precisa del suo rientro nella casa la produzione del programma e signorini hanno espresso il desiderio che giuseppe possa riprendere presto la sua esperienza nel gioco ma hanno anche sottolineato l'importanza di non affrettare le cose dando priorità alla sua salute vi dico che sta bene è sotto osservazione le sue parole precise naturalmente sotto la cura e l'osservazione di un team di medici che stanno valutando le sue condizioni non c'è nulla di grave giuseppe sta bene ma è giusto approfittare di questi giorni fuori dalla casa per fare tutti gli accertamenti che il caso richiede ovviamente in molti ora si chiedono quando garibaldi farà ritorno in casa lunedì sera forse in occasione della nuova diretta questo è quello che pensano in molti ma ad oggi nessuna certezza anzi secondo una segnalazione addirittura il collaboratore scolastico potrebbe non tornare più in gioco nel dettaglio deianira marzano ha infatti postato un messaggio di una follower che sembrerebbe essere vicina alla famiglia di garibaldi è un messaggio che va preso con le pinze lo ricordiamo ma l'utente spiega che nonostante il bidello stia bene pare che non tornerà era sotto stress pare si legge ancora e quindi anche il grande fratello non si vuole prendere questa responsabilità piaciuto il video iscriviti al canale metti un like e attiva la campanella